... ... un anno fa una percezione con la stessa parte dunque abbiamo cercato di abbracciare il più possibile la fotografia abbiamo inserito anche un festival io sono particolarmente contento stasera anche perché abbiamo il preside perché ci saranno i tecnici che sono quelli che effettivamente fanno il festival cioè direttamente dal comune e alcuni dico ah ma poi questo tipo di iniziative naturalmente che non si può fare dopo che finiscono il finanziamento in città, degli stati della minaccia in cui c'è questo sul discorso letterario è un investimento difficilissimo alla fine di questo incontro ci deve rimanere qualcosa quindi è nata come una sfida perché la linguaggio te la ricerca rappresenta un giorno uno ovviamente siete tutti invitati a tornare a tornare Bugatti quindi non mi faccio solo per la giungicazione oltre alla consigliazione quindi questo è stato il negozio che è stato poco e lasciate un'altra che è stato è stata molto prossa della mincarietà allo siccome è il corso in un razzetto cioè evitare la sfida Il mio figlio è un figlio siciliano, dalle sue origini con Camilleri abbiamo questa sorta di motivazione. Quindi ad un certo punto mi sono chiesta, ma il giallo si vende, quindi una motivazione per chi organizza